Alle 19 ore italiane di sabato scattano a Montreal in Canada le prove speciali per stabilire la griglia di partenza dell'omonimo Gran Premio. Settimo appuntamento della Mondiale di Formula 1 2016. Nelle prove libere del venerdì il più veloce stato il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton. Buone notizie per le Ferrari, in particolare con Sebastian Vettel che ha fatto registrare il secondo miglior tempo. Terzo per Nico Rosberg con l'altra Mercedes. Un po' in chiaroscuro Kimi Raikkonen che ha chiuso all'ottavo posto. E comunque per Vettel che nel precedente Gran Premio non era stato molto fortunato c'è la possibilità di continuare a migliorarsi e a stare addosso alle frecce d'argento. Mimmo Siena, Speciale News.